Sono qua vicino a un delicato, delizioso ritratto di signora, di un altro grandissimo artista. Pensate, 480 mostre sparse per il mondo tutte di altissimo livello, sparse per l'Europa tutte di altissimo livello. Stiamo parlando di un signore che doveva diventare bancario, perché il papà lo voleva far diventare bancario. E lui lo fece, il bancario, lo fece fino a quando fece uno schizzo, un disegno, una caricatura del suo direttore di banca che se la prese male e lo licenziò. Era l'anno 1878. Lui ritornò a Monza e iniziò quello che aveva nel sangue, la carriera artistica, la pittura. Guardate che meraviglia. Pensate che abbiamo tre opere di Pompeo Mariani da portare alla vostra attenzione durante questa asta 118. E tutte e tre le opere arrivano da degli eredi di Pompeo Mariani. Pompeo Mariani che poi oltretutto fu uno degli artisti che stabilì un'amicizia profonda con la regina Margherita. La Casa Reale spesso si serviva della sua mano, della sua arte per fare ritratti. Come anche Angelo Dalloca. Vi ricordate Angelo Dalloca che anche comparirà, compare in questa trasmissione? Anche lui, ritrattista dei Principi, Umberto e di Margherita di Savoia, che appunto era un'estimatrice di questi grandi ritrattisti, di questi grandi artisti. Qui però ci troviamo di fronte a un altro grande momento storico, a un altro grande periodo. Lui che viveva, parliamo appunto di Pompeo Mariani, che viveva tra la Liguria, tra Monte Carlo, era appassionato di andare al Casinò, al Casinò di Monte Carlo, per ritrarre i personaggi caratteristici del Casinò, come pure ritraeva le grandi dame, le feste che c'erano sulla costa azzura piuttosto che sulla costa ligure. Poi ritraeva i contadini al lavoro negli Olivetti, poi paesaggista, raffinato anche lui, viaggi in Egitto, dalle quali riportò sensazioni bellissime che poi traspondeva nelle sue opere. Comunque era un pittore dei ritrovi mondani, della borghesia molto alta, della nobiltà e qui ne vediamo veramente un esempio illuminante, delicatissimo. Guardate che Pompeo Mariani ci ha fatto la bandiera d'Italia. Rosso, bianco, verde, tutto sfumato con una delicatezza, una vaporosità, perché una delle caratteristiche è la vaporosità delle sue pitture. Andiamo subito a dare allora i dati di questa opera. Io vi ricordo soltanto che 480 mostre di altissimo livello, e sottolineo l'altissimo livello per dare idea della potenza espressiva e del livello qualitativo e di mercato che aveva raggiunto Pompeo Mariani e che ha tuttora presso i collezionisti. Ritratto di signora, tecnica mista su cartoncino 63x45. Per tutte e tre le opere, questa è una delle tre, autentica e timbro del notaio Pompeo Lomazzi, al retro. L'opera proviene dalla collezione del notaio Pompeo, Lomazzi di Bordighera, appunto Bordighera dove Mariani andava a svernare e poi a fare i suoi ritratti, e appunto il notaio Pompeo Lomazzi che era il nipote di Pompeo Mariani. Allora questa è un'altra delle certezze che voi avete di acquistare arte vera qui da casa d'Aste Sant'Agostino. E signore e signori, quale arte è quest'opera e quale arte meravigliosa stiamo vedendo insieme, non mi stanco di dirlo, un'emozione dopo l'altra, un tuffo al cuore dopo l'altro. Stima 8-13 mila euro, base d'asta soltanto, e sottolineo soltanto, 6 mila euro per entrare in lizza e entrare in possesso di un'opera del grande Pompeo Mariani. Passiamo alla prossima opera.